quali possono essere le endocrinopatie nella coppia infertile, quindi quando sospettarle e che cosa fare. Allora, partiamo dal dire che il sistema endocrino è un sistema complesso dove tutti gli organi si connettono tra di loro, quindi non è strano che anomalie di funzionamento delle maggiori ghiandole endocrine, come possono essere l'ipotalamo, l'ipofisi, la tiroide, i surreni e anche quindi le gonadi, possono causare infertilità, sia nell'uomo che nella donna. Cosa importante è non dimenticarsi, insieme a queste ghiandole maggiori, anche altre ghiandole importantissime, come per esempio il tessuto adiposo. Il tessuto adiposo è in realtà una ghiandola assolutamente, diciamo così, diffusa, ma poco conosciuta. In realtà è un vero e proprio laboratorio endocrino. Iniziamo dall'infertilità femminile e quando potrebbe essere necessaria una valutazione endocrinologica in caso di infettilità. Sicuramente in presenza di disordini dell'ovulazione, come già il professor Manna ci ha ampiamente dimostrato, o in cause più evidenti di endocrinopatia, come nell'iperploratinemia. Partiamo dal valutare i disordini che possono colpire l'ipotalamo e l'ipofisi. Disordini ipotalamici, logicamente un'alterazione della secrezione del GnRH con conseguente amenorrea. Amenorrea che può essere funzionale se il disturbo che ha causato questa alterazione ipotalamica del funzionamento dell'ipotalamo è dovuta per esempio a un calo ponderale o a un esercizio fisico eccessivo o a uno stress anche psicologico, non solo fisico, può essere fisiologica, farmacologica, ma anche legata a disordini per esempio psichiatrici, quali l'anoressia e la bulimia. La paziente quindi perché giunge alla nostra osservazione? Giunge alla nostra osservazione per un problema di assenza di ciclo mestruale, di amenorrea. Che cosa dobbiamo andare a indagare per sospettare una causa di malfunzionamento ipotalamico? Appunto le cause di cui parlavo prima, quindi un'alterazione del peso corporeo in caso di un deficit congeito, in questo caso i sintomi saranno più di amenorrea primaria, ma per esempio la presenza di un'eventuale anosmia, perché la diagnosi del disfunzionamento ipotalamico è principalmente di esclusione. Quindi attraverso l'analmesi, importante sottolineare il fatto che il sottopeso non è un prerequisito fondamentale per la diagnosi di disfunzione ipotalamica, poiché il fattore principale è l'importante diminuzione del peso corporeo. Escludere fondamentale le patologie infiltrative o tumorali a carico dell'ipotalamo. E soprattutto escludere, però questa è molto più facile perché la amenorrea in questo caso non è acquisita ma è primaria, quindi con ritardo dello sviluppo puberale, un'esclusione di un ipogonadismo ipogonotropo idiopatico.